musica 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 marco venuti non c'entra un cazzo vero? ah è lui? sta con loro non vedi musica ok regà direi in namo musica art on fire ok ragazzi allora gabriel fai una cosa eh raga che banno? overdrive fai una cosa vai su impostazioni abbassati il voice activation la come si chiama su capture perchè ce l'hai troppo alto e si sentono i rumori di sottofondo banno? boh fai te quello che te pare se vogliono fare trip ma in qualche schicezza che loro potrebbero avere ok dovrei overfog si possono aiutare i contro qualche shit questa guarda questi che gay shitate bannano percezione ambientale e mo tocca a me bannà mmm rapid fire no eh bravo devo bannare io rapid fire va bene capito se no questi non lo fanno mica mamma na 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 no na 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 gabriel non puoi fare niente questo rumore de sottofondo no eh ehm l'ho abbassato vediamo prova ancora no perchè se tipo non parli ti sale il volume da solo non so per quale motivo prova a mettere echo noise cancellation quelle cose Eh, già sto attivando Può non fare attività, fai applica E io tanto, mentre sto qua mi vado a vedere Il buon vecchio Alberto 418 profile views Vediamo le statistiche No, sono aumentate ora le mie views Mi sono boostate in chat Allora, vediamo che cosa hai fatto Trofis and badges Se ci giriamo a quante views Siamo a 400 318 Io appena regalato da views Tutto questo Arts Arts Io invece Io non ho mai controllato queste cose Tipo sul mio profilo Bello non avere nemmeno un trofeo oro Cioè per cui non si era scelto Uno specialista Ho contato Ero 76esimo in Europa Su Advanced Warfare Madonna Che merda Ma per vittoria Cosa? Per punteggio? Per i pro points Ah ok Ok rega ora Mi sentite? Sì Adesso è finita la canzone Finalmente Adesso sono concentrato Ok rega E mo andiamo a stuprare Easy Voglio la musica Grazie rega Non so L'avevo lasciato un attimo Perché Stavo caricando Prima della partita Vedete questo è il link Se volete vedere il multi twitch E ora ragazzi Scusate se non vi risponderò tanto in chat Ma dobbiamo giocare Cercherò di scrivere Senza dare fastidio agli altri Non so che cosa sono i cream The real firebolt I cream hanno vinto Chad 6-2 con 3 phase Passo Chad Chad è una modalità particolare Non ha niente a che fare Con postazione Uplink Così Conta molto la testa L'abilità E non conta Quanto giochi Quanto sei brava a sparare Perché se sei il giocatore Più intelligente di COD Chad lo vincerai sempre Funziona così Sì siamo nella ladder di GB Quella europea da 2000 dollari Ci pensi Ci qualifichiamo ai playoff E li fammo pure E vinciamo i soldi Che immagini Minchia Oh ma bellissimo Non so se prendere il dart O mettere il guardian Che dici? Boh se vuoi lo vuoi mettere Non quel cazzo Non mi prendi più Io la cacero Me lo metto sicuro Vai metto il guardian No nel senso Non metti altre streak Così tra l'altro Ci metti meno A prendere un'altra Ah vabbè No sì certo Certo però Dato che Nelle altre Ho avuto la fortuna Di riuscire a chiamarle A far full streak Quindi Per il sicuro Lo sto mettendo Però La prossima volta Posso anche lasciare Solo l'HCXD In effetti Verrà carichi Mi scuso già con Gabri E Hybrid O Cossage Come ti vuoi chiamare Non so Per le boiate Che farò Perché voi magari Non sapete che No Gioco da ieri Con Pedic Quindi Ho ripreso ieri A giocare un po' Con i CED Io mi vado a mettere Mi vado a mettere Ragazzi A niente Mi vado a mettere Nessuna parte Vado a fare una cecchina Da middle map Ciao Sorrido sempre pure La bomba Avviate voi Kid Sencura Allora È scappato via Con la guota Tra le gambe Conta E c'ho pure Che flanchi Quindi Frenchi Flanchi Flanklin Arzarù Ecco Sotto il loro Porco Attenzione C'è un altro C'è un altro C'è un altro Alla porta Sotto Sempre sotto Uno dietro la bomba Controlla a sinistra Se lo vedi Tra lì uno Saltava Allora Uno dietro la bomba Sopra Ho preso Ho preso 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 40 Fottutissimi Colpi Sono Pia Cazzo Tetto Nelto Sopra Ho saltato Dosso Preso Bedroom 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 Top Bedroom Ma che cazzo È laggato Che è successo Tra poco Finirà tutto No è caduto di sotto E fa E lo fa Fa l'ace Silenzio vostro Ragazzi Che è in cui tantissimo Non si fidano Non si fidano Best of three Best of three Ora io copro Sotto Bedroom La Sulla bomba Sai Albe una cosa che fa Mi mette sotto le scale E io mi metto sopra Statua E ti copro il culo Se qualcuno ti arriva da sopra Te lo chiamo Ok Io ho la macchinina Quindi raga Io me la gioco Io mi gioco la vita Se ti dico Che si butta Dalle scale Vuol dire Che ce l'hai sopra E si butta Versi Ok Ok Eccolo qua Dove? Uno bunker Uno due Rainer Pusha Non me vale Porca troia Oh porco Mi sembravi tu Ma che cavolo Ho salito uno sopra Preso Ok Perfetto Io non stavo Ragazzi Non stavo guardando Non stavo spando da quello perché Bomba è Power Bomba bunker Ok Io rimango qua dietro Ragazzi a me frega Sto è un head glitch Proprio da figlio di puntata Middle 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 subì Middle subì Middle subì Arriva da me Preso Bella Non è nessun turnéo Al meglio di tre questa Sì sì Al meglio delle tre questa partita E parte il bestemmione Grandi ragazzi Io mi sono trattenuto Ci ho pensato un attimo Lascia Io mi rimetto il cecchino Riprovo a fare quello middle Allora io corro Ok Prendi la Ma Possiamo pure Aspettare giocare Per la picca Per fare una kill Mi sto fermo qua Middle Chi lo sta guardando Oddio cosa ho fatto Regà Io 50 punti A le streak Quelle cattive Dove? Hai tatto Non lo vedo Non lo vedo C'è le sopra Gabriella Un run Tata a destra Nel corner Oddio L'ho già flashato Ma non l'ho beccato Non c'è Uno lo spawn Regà Io la piazzo Che mi prendo le streak Sto guardando dietro Sassi nulla Dimmi se lo vedi Che vado dietro La macchina bianca Dietro macchina bianca Ahia cazzo Eh ho sbagliato a sparare La mid non c'è Guardo dietro Eh sopra il van uno Le ho un'occhiata la bomba Scendo un attimo giù Ce l'hai uno dietro Ricordati Eccolo Bravo Un altro Un altro Attento Sopra 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 Bravi ragazzi Bravi Allora Bravi Ben round Raga io c'ho tutte le streak Quindi andiamo dei violenza Oh Lamandowski spacca come nome C'è Eh ho visto Ho detto anche io Mi sono superato questa volta Il migliore dei nick Che abbiamo mai messo Io guardo Zero fantasia Allora Io utilizzo ragazzi Lightning Ma mid cut Forse è passato uno No no l'ho perso Adesso Vanno in alto comunque Di rocce Sì Uno rocce Uno va sopra dal Warren Ce l'hai sopra Albe Sopra di te Sopra di te in cucina Sopra in cucina Mi pushano a me Uno l'ho preso L'altro è in cucina Albe Cucina 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 Con la bomba Con la bomba Bravo Albe Il silenzio di Alberto Il silenzio di Alberto è inquietante Perché non capisco se lo sta andando a prendere o lo sta aspettando Che io ero dietro una colonna E l'ho concentrato Carai che schifoso questo Allora raga E ora aspettate che tiro io le streak Anzi Mettetevi tutti le smg E seguite la mia macchinina sopra Sopra casa Anche la macchinina comunque Eh la uso prima e La uso prima e Tuttavia per round dopo Sì Ce l'ho pure io Se fa una gara Vado vado Aspettatemi Fatemi passare avanti Che non voglio che morite Nessuno sopra casa Ok uno è top Preso Ok vai 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 pushate pushate Ho ammazzato quello dietro tavolo Andiamo 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 Utilizzo questo Ok ragazzi uno sotto dietro il divano Uno sopra uno sopra Vabbè ciao regà Non parlo più C'ho attivato l'impulso visivo a caso Sopra Bravi Easy Easy Devastativo Easy La corsa di macchinine Dai dai E io poi tiro l'aereo Pare che stiamo Di va a giocare con le mini 4 Voddio Grazie mille Magic Che li ha avvertiti Vi ho fatto Best of 3 Solo cerca questa volta Faccio una cosa malata dai Sono schifo Io pure faccio una cosa malata Col cerco Dipendete gli obiettivi Ah uno va a rocce Ecco Gabi l'ha preso Porco Stai arrivando su L'hai visto? Guarda tu mi vado a mettere Albe Bene bene Mi sa che Giorgio si è suicidato Cos'ha fatto? Andiamo a vedere in compagnia Cosa sto facendo? Quell'altro cade giù Ma che cazzo ho fatto? Ma che cazzo ho fatto? Non ho fatto vedere le operazioni di streaming Ma sono perso Non sono perso No No raga Io Non so che dire A quello che è successo Ma che è successo? Conta mi sono messo Nel corner più brutto del gioco Tiro l'aereo Il punto è che il corner È troppo stretto Quindi l'aereo Becca qualcosa E esplode C'è No raga che schifo Raga che schifo Schifo raga Non ti dico Non ti investe Dard Euda Che merda Che merda Oddio raga Guarda albeb Guarda albeb Guarda dove mi sto a metter Guarda cosa fa Boh Ho proprio lanciato tutto Proprio tutto Oddio mio Oddio mio Oh mio Renato Una foglia che blocca un razzo Ma sono sempre io leggero L'anzione che ti ho fatto